Musica Ed eccoci qua ragazzi Ben tornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla E siamo tornati su Naruto, Shippuden, Ultimate, Ninja, Storm 2 Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta O meglio, siamo qui al covo di Orochimaru Dobbiamo andare a cercare Sasuke E nello scorso episodio abbiamo affrontato Sai, Kabuto, Naruto, Volpe a 9 code Da 4 E raga sto provando diverse volte a registrare questo episodio Perché il Game Capture si interrompe E vi dico che ho dovuto ricominciare il gioco Perché quando mi sono accorto che il gameplay non fosse stato registrato Avevo già svolto sta parte e quindi Ho fatto tutto un lavoraccio per ritornare qua Perché non potendo fare la selezione O almeno non posso fare la selezione delle capitoli o comunque dei pezzi da rifare Ho dovuto ricominciare il gioco e riarrivare fino a qua E buonanotte Quindi se vedete che non si sblocca il trofeo È perché magari l'ho già sbloccato Però vedo se riesco a recuperarvi il pezzo Della notifica del trofeo O comunque dei trofei che avevo sbloccato Così che li vedete che li ho fatti Perché mi sembra che dalla Play 5 posso risalire Alla riproduzione dello sbloccaggio dei trofei Si può dire sbloccaggio La zona più profonda N-that voice Finalmente We found you Sasuke 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 What are you doing all the way out here? Siamo arrivati per tornareci Scusate, ma non riesci a farci Siamo tornareci a te tornare se vogliamo Stavo chiedendo dove è Kakashi Quindi tu sei qui in suo posto E è il mio stand-in? Sì, voglio vedere il rapporto tra te e Naruto Un rapporto che è un rapporto che è scoperto Che cosa? Il rapporto in questo mondo è solo ti lederà a farci Il rapporto un'ambizione Vedete, ho un rapporto diverso ora, tra mio figlio e me vecchio, è il rapporto del hatred. Ho scoperto i miei rapporti con te suoi giorni tre anni fa. Scoperto i miei rapporti? Sper di parlare di scopo! Non importa il quattro che lo scopo, potrei sentire il rapporto tra noi. Non è scoperto, tre anni fa, e proprio questo secondo, tu e io siamo collegati! Il nostro rapporto, il rapporto che ho finalmente trovato con te! Non è qualcosa che puoi scoprire così facilmente! Non posso tornare. Se questo è così, dovrò scoprire il rapporto! Naruto! Ok, affrontiamo Sasuke. Supreme e risveglie non disponibili. Ok. Prendi Sasuke! Ok. 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 Compete! Ok. Prendi Sasuke! Prendi Sasuke! Ok. Ok. Scusi che ci stai aspettando. Satsuki! Stop! Chidori, scream! . . . . . Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, 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 Sì! 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 Sì, Sì! 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 Sì, Sì! Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì! Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì, Sì! 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 Unione, capitolo 2, fatto! Lamentale, sembra che stai sempre comprando il mio ramen, Iruka-sensei! Certo, posso vedere quanto stai lavorando, chiamarlo una recompensa! Hey, quindi se stai lavorando così stai, dovrai pagare le mie mani per sempre? Come on, stai cercando a me banchotare? Ha ha ha! Certo, credo che andrò alla ninja-academia. Cosa di te? Devo andare a incontrare con Sakura e gli altri! Un'altra missione? Sì, stai lavorando a te occupi! Beh, fai il vostro meglio! Sì! Ok! Molto bene ragazzi! Direi che per oggi possa essere tutto! La prossima volta ripartiremo da qui! Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto! E... Alla prossima! Ciao belli! Ciao belli! Ciao belli!